Mara Venier, la celebre conduttrice televisiva italiana, ha festeggiato il suo 73esimo compleanno in compagnia di parenti e amici. L'evento è stato un'occasione per condividere momenti speciali e gioiosi con le persone a lei care. Durante la festa, Mara Venier ha dimostrato ancora una volta il suo carisma e la sua simpatia, intrattenendo gli ospiti con il suo spirito vivace e il suo talento naturale per mettere a proprio agio chiunque si trovi al suo fianco. Un bambino, avevo un nipote! Un bambino, avevo un nipote! Un bambino, avevo un nipote! Grazie a tutti! Grazie a tutti!